Buonasera a tutti ragazzi, buonasera, buonasera sono le 6-5 e benissimo siamo arrivati all'ultimo giorno dei Vlogmas ragazzi, oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta, per quest'anno è andata così, non pensavo mai di potercela fare e invece 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 siamo arrivati al giorno 24, 24 di dicembre, vigilia di Natale, quindi auguri a tutti quanti, auguri per quando arriverà la mezzanotte, buon Natale ma ci vedremo a mezz'ora, eh sì, a mezz'ora, ci vedremo a mezzanotte in un video cortino cortino dove faccio gli auguri e non vi dico anche auguri di buon anno perché sicuramente registrerò altri video più alti, ovviamente non escerà uno ogni giorno come succedeva adesso con i Vlogmas ma sarà un po' diverso, ce ne sarà qualcuno in meno, in modo tale che anche voi abbiate il vostro spazio per fare quello che volete stare un po' tranquilli e non guardare ogni giorno i video di il signor Tommasi, per mio oggi è stata una giornata molto 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 impegnativa quindi grazie a Dio sto registrando a registrare in questo momento perché mi sono svegliato, ho dovuto iniziare a mettere a posto tutta la stanza da solo, infatti magari domani registrerò un video che ovviamente non vi posterò subito ma sarà comunque il video delle room tour, del nuovo room tour perché c'è quello della camera vecchia e sono proprio tutto a posto, sembra tipo una stanza di un albergo ragazzi non ci crederete mai, cioè io non ci credo nemmeno che ho fatto tutto ciò da solo, ho fatto due letti da solo, il mio, quello di mio fratello, ho pulito tutto il balcone, ma ragazzi l'ho pulito tutto il balcone nel vero senso della parola, tutto, non mi è scappato niente, ho pulito i vetri, ho tolto la polvere, ho pulito il cornicio nel fuori del balcone, anche quello dei vetri che è tutto bianco però comunque vi farò poi vedere, ho pulito tutta la ringhiera bianca che era un po' sporca e nero perché era un po' vecchia, ho pulito il posa cenere, ho lavato tutto per terra, ho spostato bene i vasi per mettere il balcone più ordinato, un casino ragazzi, infatti anche un po' di mal di schiena ci ha messo veramente un ciuolo di ore e nonostante tutto stasera devo andare anche al cinema con due mie amiche di ginnastica, una è Olivia che la conoscete già e l'altra Alicia che anche lei conoscete perché anche lei si è riuscita a intromettere in qualche video, quindi che mal di schiena quindi non pensavo proprio di farcela e invece ieri comunque ho aperto un regale in anticipo adesso vi faccio vedere perché in questa famiglia abbiamo questa solita tradizione di il giorno prima di Natale o comunque nei pochi giorni prima di aprire almeno un regalo a tessa eccolo qui, è un profumo di Vidal e del muschio bianco c'è scritto qua e ragazzi è buonissimo, infatti adesso me ne metto anche un po' anche se sapete che veramente non ho ben capito se questo sia un mio regalo o meno perché? perché non ho ancora capito? Perché è venuta la mamma di mia cugina a portarci i regali e questo qui era un pacchettino così, era lì vicino e lei mi fa e ho portato i regali, il tuo è lì solo che mi sono accorto poco fa che erano un po' tutti vicini quindi io ho preso il primo così che mi era risaltato all'occhio che alla fine è anche il più piccolo, quindi non è che ho detto oddio visto il più grande l'ho preso e l'ho aperto, ho detto muschio bianco ho detto madonna ma è buonissimo, poi io comunque amo il muschio bianco quindi ho detto wow, regalo perfetto e adesso mi rimango un po' così perché forse non è proprio il mio regalo si vedrà ma penso di sì, penso di sì e spero di sì insomma le sei in punto diciamo che in questo video non ho molto molto da dirvi ho acceso anche le Yankee che andranno un po' davunque ne ho una la sopra vicino al mio letto no, ho acceso, ho una in salotto una nell'entrata e una in cucina anche perché già da stasera inizieranno i pranzi scusate si sta scurrendo la luce ma il mio fretto si sta spegnendo che cazzo fai? mi sa che l'onestà non è proprio una buona idea mettere il telefono lì mi sa neanche perché sentite è meglio che non rompere il telefono solo per fare un po' più di luce niente, dato che niente, sta collaborando con me stasera per registrare questo video lo lascio così corto corto e niente, ah vi stavo dicendo che abbiamo ospiti oggi e quindi per quello che ho deciso di mettere tutto a posto e di mettere le 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 candele un po' ovunque ok quindi da stasera si inizia a mangiare ed ingrassare pesantemente quindi noi ci vediamo nei prossimi video vi chiedo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti attivate la campanellina lasciate un like un commento qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video che non sarà più un vlog ma sarà un video normale bye a lì c'è solo